serve per le emozioni, è necessario fare una baseline, cioè il comportamento in situazioni di tranquillità, perché il presupposto di fondo è che quando una persona mente, quando una persona dice una falsità o è falsa, si verrà vegetativo e quindi darà dei segnali a livello non verbale, perché teniamo presente che la comunicazione è al perporre delle domande base per fare una baseline, quindi se vogliamo proprio fare un lavoro scientifico, poi dirò anche altre strategie meno scientifiche ma più immediate, dobbiamo iniziare a porre delle domande di cui sappiamo la risposta, domande tautologiche, come ti chiami, cosa fai, dove sei, insomma domande del quale sappiamo la risposta e osserviamo quindi più o meno grossolanamente anche qual è la situazione, la mimica facciale, la postura del corpo, quando questa persona dice la verità e quindi non vive uno stato tensionale. Anche le pause del discorso, anche dove muove gli occhi, come muove gli occhi, poi vedremo di provare a chiedere delle cose a un passante di cui noi non sappiamo la risposta, ma che potremo comunque in qualche modo poi scoprirla e osserviamo, diciamo, osserviamo il tipo di risposta che ci darà. È molto importante anche la pausa. Tenete presente che se la pausa è troppo breve, ad esempio, tu vuoi capire se tuo marito o tua moglie ti ha fatto le corna dove è andata ieri sera, no? O cosa ha fatto ieri sera? E tu gli dici, dici, ma cara o caro, ah Mario, Mario, cosa hai fatto ieri sera? E lui ti dà una risposta, tac, immediata e ti dice, ah sono andato a casa del mio amico Mario, abbiamo fatto questo, questo e quest'altro. Non muove neanche gli occhi, beh significa che se l'era preparata quella risposta e quindi è probabile che è una menzogna, quindi se la pausa è breve, non muove gli occhi, resta fisso, resta fermo, è probabile che quella risposta se la sia preparata. Ditemi se si vede bene intanto, si vede bene, si sente bene, vecchie carampane, ditemi se si vede, se si sente bene. Quindi se invece succede il contrario, che il tempo di risposta diventa troppo lungo, cioè la persona impiega troppo tempo a dare una risposta e allora è probabile, diciamo, che questa situazione, mi date una risposta se si vede, si sente bene, carampane, e allora può essere invece che la persona si è troppiazzata, una domanda che non pensava e quindi a questo punto inizierà a emettere delle, diciamo, da non parole, no, interiezioni tipo M, A, M, sì, sì, certo, B, sì, no, è ovvio, ovvio, sì, M, quindi bella domanda. Oppure una persona che ti dice ti darò una risposta sincera. Quando uno ti dice ti darò una risposta sincera è molto probabile che sta per mentirti, è molto probabile che accade, diciamo, molto spesso quando le persone, diciamo, in realtà non stanno dicendo la verità ma stanno dicendo la menzogna, perché ricordiamoci sempre il detto escusazio non petita, accusazio manifesta, che è un detto che comunque funziona sempre ed è sempre presente, diciamo, nella situazione. Quindi tenete presente questi fatti importanti, questi fatti fondamentali. E poi, diciamo, ci sono altri segnali che magari sono segnali paraverbali, segnali di diversa natura, che ci possono far capire, diciamo, come una persona, se una persona sta mentendo, come una persona sta mentendo e perché una persona sta mentendo. diciamo... Ah, si blocca appena. Ah, sento bene. Ok. Ditemi... Ok, perché resta fisso lo sguardo. Ditemi se sentite...